ciao a tutti oggi prepareremo la granita pistacchi il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa gli ingredienti sono pistacchi non salati cubetti di ghiaccio zucchero semolato latte freddo e crema di pistacchi diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere i pistacchi teniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola e azione a mil bimbi per 30 secondi a velocità 10 e ripetere questa operazione per altre due volte riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il latte freddo la crema di pistacchi e azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 10 finire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il ghiaccio e azioniamo il bimbi posizionando la spatola al posto del misurino per 40 secondi da velocità 6 a velocità 8 spadolando la granita è pronta serviamola granita di pistacchi grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti